Sono Stefano Vaglio e rappresento CarbonSign Group SRL, che è uno spin-off accademico dell'Università degli Studi di Firenze. CarbonSign Group è un'azienda che si occupa dello sviluppo di progetti ad elevato impatto socioambientale volti alla compensazione dei gas serra atmosferici. La nostra azienda parte dalla ricerca svolta qui in Ateneo riguardo alla capacità di assorbimento della CO2 atmosferica da parte delle piante. Dopodiché questo principio chimico-fisico è stato declinato dalla nostra azienda in progetti multidisciplinari in Italia, ma soprattutto in paesi di sviluppo e in particolare nel continente africano, aventi la capacità di portare una serie di benefici socio-sanitari e ambientali alle comunità locali nei paesi terzi. Il mercato finanziario di riferimento della nostra azienda è il Carbon Market. Il Carbon Market è quel mercato finanziario che deriva dall'applicazione del protocollo di Chioto e ancora prima dalla Convenzione sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite e che si basa sulla commercializzazione e lo scambio dei crediti di carbonio. I crediti di carbonio non sono altro che delle unità di scambio che permettono di contabilizzare il bilancio globale di assorbimento e emissioni di CO2 atmosferica e degli altri gas serra. Sicuramente il valore aggiunto del nostro team è rappresentato dalla multidisciplinarità delle competenze presenti tra i vari soci che quindi non sono solamente tecnico-scientifiche ma anche giuridico-economiche e finanziarie. In ultimo ci tengo a sottolineare che la nostra azienda presenta tre sedi in Italia di cui una all'incubatore universitario fiorentino del nostro Ateneo.